Sansovini sì, Sansovini no. Nell'attesa che l'attesa finisca e il centravanti romano dia una risposta al Pescara prima che al Teramo, i biancorossi lavorano per le conferme di alcuni della vecchia guardia. Se ne saprà di più nella giornata di domani per la punta. Intanto alle 13 vertice di mercato in via Oberdan tra il direttore sportivo Fabio Lupo, il direttore generale Gianluca Scacchioli e il presidente Luciano Campitelli. Domani Scipioni invece dirà di nuovo sì al diavolo, prolungando un matrimonio che quest'anno pareva potesse concludersi dopo un'annata con più ombre che luci. Il progetto del Teramo e la mancanza di offerte che potessero farlo vacillare, come quelle arrivate lo scorso anno di questi tempi, suggeriranno all'esterno di rimettersi in gioco nella piazza che è di fatto casa sua. Situazione diversa per Alessandro Tonti. Ogni giorno che passa l'estremo difensore si allontana dai colori biancorossi. Per rimanere dovrà accettare di spalmare l'ingaggio su più anni e non avendo la certezza di essere il titolare. In pole position per sostituirlo c'è Riccardo Melgrati, giovane estremo difensore di 22 anni, ultima stagione la Provercelli, ma di proprietà del Cesena e lui l'indiziato principale a difendere l'anno prossimo la porta del diavolo, anche se la pista non è affatto semplice. Ma il vero colpo di scena è proprio nell'asse col Pescara, da cui arriveranno presto Carcalis e Orlando. Perché mentre per Palestini non ci saranno problemi, la mega operazione non prevederà Alessandro Di Polo Antonio che sembra destinato a rimanere a Teramo, uno scenario che si è aperto nelle ultime ore ma che comunque dovrebbe tenere in piedi tutto il resto senza far crollare quanto già costruito. Dunque Carcalis e Orlando a Teramo, Palestini e solo lui a Pescara. Con i due difensori scuola biancazzurra che entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima saranno ufficializzati dal sodalizio di via Oberdan.